Il fatto che il Papa e l'Europa intera prendano posizione contro queste leggi assurde volute dal governo americano fa pensare che probabilmente a un miglioramento si dovrebbe arrivare. Il Papa ha trovato il Presidente che presenta il sistema di presentazione che si defende dell'Europa internazionale e riguarda i diritti dei cittadini in Cuba, ma ho trovato aperto a dialogare. Grazie. 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 Grazie.